Nelle 35 sezioni elettorali della città di Favara, gli elettori sono complessivamente 34.716, di cui 17.535 femmine e 17.181 maschi. I residenti nella città dell'Agnello Pasquale sono 26.031, di cui 13.598 donne e 12.433 uomini. A loro si devono aggiungere anche i favaresi residenti all'estero, che sono 8.596. 89 invece sono i nominativi presenti nelle liste aggiunte dai cittadini originali di altri paesi della Comunità Europea, dati che quindi rimangono invariati rispetto al primo turno svoltosi domenica 5 giugno. Le 35 sezioni elettorali sono dislocate in sette plessi scolastici. L'Istituto Monsignor Giudice di Via Roma ospita le sezioni dalla 1 alla 6. Gli elettori iscritti nelle sezioni da 7 a 10 invece devono recarsi presso il plesso Don Bosco di Via della Grazia. Nella scuola Bersagliere Urso sono attive le sezioni da 11 a 15. Il plesso Pirandello di Via Grigento accoglie gli elettori dalla 16 alla 21. L'Istituto Comprensivo Guarino di Via Basile invece ospita le sezioni dalla 22 alla 27. La scuola Domenico Savio di Via Palmoliva accoglie tre sezioni dalla 28 alla 30. E infine l'Istituto Comprensivo Falcone Borsellino di Via Angela Doro le sezioni che vanno dalla 31 alla 35. La sezione con il più alto numero di elettori è la 22 con 1.259 chiamati al voto, mentre quella con meno iscritti è la numero 10 che conta 775 elettori. Al primo turno l'affluenza registrata a Favara è stata del 61,31%. Statisticamente il numero dei votanti in occasione del ballottaggio è sempre calato. Cinque anni fa infatti tra l'affluenza del primo e del secondo turno si ebbe una differenza del 10,43%. Calo dei votanti probabilmente dovuto al mancato interesse alle urne per il voto del rinnovo del Consiglio Comunale. Cosa che quest'anno con la nuova legge elettorale potrebbe cambiare. Infatti in caso di vittoria di uno o dell'altro schieramento potrebbero sedere più consiglieri della propria lista o coalizione tra gli scranni di Aula, Falcone e Borsellino. Chi vincerà infatti avrà la maggioranza nella pubblica assise cittadina.